signori bentornati sul canale del darion e benvenuti nel video speciale dei 100 iscritti intanto fuori passano i motorini va bene siamo finalmente nel video dei 100 iscritti un traguardo per me molto importante molto importante anche se sono consapevole che oggi nel 2022 fare 100 iscritti è nulla è assolutamente nulla per molti sarà un traguardo questo insignificante ecco usiamo questo termine perché oggi ci sono canali da 100 mila di migliaia milioni di iscritti e sono giusto una goccia in questo mare chiamato youtube italia e comunque ragazzi per me un traguardo questo è importante perché comunque ci sono 100 persone che guardano i miei video e spero che queste 100 persone si divertano a guardare questi miei video e comunque questo ragazzi è un video particolare perché diciamo subito ragazzi che questo è un video che tenevo in mente già da un bel po di mesi il video è nato e cresciuto col passare del tempo ogni giorno che passava io aggiungevo cose a questo video sono partito da un'idea e col passare del tempo il video è nato ed è cresciuto come un bimbo bimbo che oggi giovedì 17 marzo nasce ufficialmente ragazzi direi che come come intro questo vada bene così diciamo non ho nient'altro a dire oltre ovviamente a un enorme grazie grazie infinite per questo traguardo speriamo che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di traguardi ora adesso andremo spediti verso i 200 iscritti e niente signore spero che il video vi piaccia godetevi lo spettacolo signori godetevi le migliori scene tagliate di questi ultimi mesi del canale il darion buona visione allora squalificati di questa partita sono soltanto rifedi soltanto buongiorno guaiò bentornati in questo nuovo video dei fanta consigli di ricominciare soltanto perfetto quindi archiviamo la prima partita tra san pempoli e acqua bene ciao faccio stasera mi piace in del 4 parca putta basta soltanto per me questa partita si giocherà molto al centrocampo quindi proprio non sto giocando così a capo scherzo mi dissocio soltanto per quanto riguarda il riporto di pensino pur di pensino ho detto per quanto riguarda allora soltanto adesso arriva papà ti ho detto porta la sedia perché non c'è ti ho detto tre ore soltanto soltanto la faccia la faccia a niveletto non mi ispira lo no non c'è perché si vede lui sente perché devi stare col bene eh sì ti ho detto devo registrare trasfermettiti eh mettiti qua ah ma pure che stai eh certo e che stai a fare allora scusa mi segna mettiti un po' più avanti no devo vedere ci devi essere anche devo essere volito eh non devi essere una voce di teoria devi stare eh bravo fatti il bello bravo la ventana ma io non trovo il carto ma dai vai ti venga una tatatta poi c'è tutto ciò cotto l'ho comprato std'acchino non lo trovo più ma qui sto carto c'è e quella è la montadella va via cotto io ho comprato in pesa la cotta è montadella non c'è stato un po' io non ho tutta la prima a fare eh ma però dai mettici la mortadella ci metto mettici la mortadella andrò che non mangia il toro soltanto mi faccia la triccata per la vostra cara adesso te la scagliate come ha fatto a lui e mettici la mortadella ma non ho mangiato io tutta qua la faccio la e la infalla la faccio di corte la vostra cara adesso te la scagliate ma la scagliate soltanto la cittadama buona e me la pensi si scioglie troppo mi stai sull'altro comando ce n'è uno mezzo e sigillato ancora e chiudo? apro io apro io soltanto salve che cannocchiale si vede bene da non fa tante storie siamo genuti non è una diretta non siamo nulla allora com'è ma asciutata ma che è un avanzo per le cara? non ho capito perché così sei più vicino si sente anche meglio si vede si vede piccolo eh sei tu che stai cercato allora scusa si vede bene da fa vedere se ma deve essere gestendo la sua posta metteria no no però dico in generale soltanto si è noi si è noi ecco mo sembri San Vincenzo sembri l'angelo no devi fare il contrario devi averlo davanti a te la luce buongiorno aspetta aspetta Dio santo però dai è tre ore per fare l'intro soltanto io io il sole il bro del fanta bene mi sembri tanto un tossico però va bene qua verrete sembri tipo Andrea Di Pre Andrea Di Pre dopo tipo dieci tirate tre due uno buongiorno bella tua gioia tre due uno buongiorno buongiorno faremo io i coglioni però soltanto aspetta guardate Vincenzino che nel nel ben mezzo di una registrazione decide di andarsene e fare il cabbo che gli pare guardate io con chi devo lavorare ragazzi purtroppo purtroppo questo c'è in giro o questo o niente quindi mi sono dovuto accontentare però non so mancanza di professionalità seria da questo da questo essere ecco è tornato nella sua tana guardando il cellulare continua a farsi i cazzi sui soltanto non è tornato un secondo attraverso capito guarda per non è tornato guarda mario star guarda 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 Motorenzo! Sono il capitano di un tetto di riuso! Soltanto... Ma che è questo pezzo? Che è fatto il Maronna? Soltanto... Partiamo da Mertens, ok? Che è un po' l'argomento più fuocoso di questi ultimi giorni Cosa ti sei fatto? Qual è la tua idea? Di meth! Di droga! Che ti sei fatto? Ok, tagliamola questa Allora, partiamo da... Allora, partiamo da... Allora, partiamo da... Soltanto... Quando te Mertens rinnoverà la fine o... Siamo a Giuno, lo saluteremo Siamo a Giuno? Sì, vero Allora, noi prima finiamo e prima vai a dormire Non so se ne hai capito Allora, vabbè... Aspetta, gli faccio... Vai Sì Vai Soltanto... In profondità Non è tipo un insigne che piuttosto si accentra, ok? L'hai notata anche tu sta cosa? Sì Perfetto, ragazzi Quindi... Direi che è via Soltanto... Trovate anche l'Instagram di Vincenzino E niente, signorino A questo punto Ci vediamo Domani Hai finito di fare il coglione, dai Mi sono rotto il coglione Ragazzi, forza Napoli sempre Direi sempre il coglione Ma smetti di fare... Dai, fammi chiudere sto video Dai, ah Noi ci vediamo domani con la conferenza stampa di... Sì No Noi ci vediamo Se tu mi fai ballare magari... Lo dico l'ultima volta Basta, vai Soltanto... Noi ci vediamo domani con la conferenza stampa di... Sì Vai, come... Che spero Vi amo però... Vai E vai Noi ci vediamo Allora, non ci vediamo Noi ci vediamo dopo... Dai Ma ci riesco più fuori... Continuo Noi ci vediamo... Partiamo Partiamo Basta, basta Basta L'ultima volta... Basta Noi ci vediamo domani con la conferenza stampa di Spalletti E poi vabbè ci vediamo domenica col post partita e poi con la live reaction Ci ho detto questo ragazzi... Forza Napoli sempre... Sempre e comunque... Vai Speriamo bene per domenica... E detto questo sì... Noi ci vediamo al prossimo video... Ciao Ciao Bene ragazzi... Spero che questo video vi sia piaciuto... Spero che vi abbia strappato un sorriso... Ho voluto... Tenere... Diciamo... Farvi vedere le... Le parti più divertenti quelle che secondo me sono state in questi ultimi mesi sul canale... Scene che non avete mai visto... E che io ho conservato apposta perché... Ehm... Appunto... L'idea che avevo di questo video era proprio questa... Di... Tenere le parti più... Diciamo... Più divertenti... Più belle dei video... E conservarle per poi mettere tutte in un unico video che farà da compilation... Ok? Spero che questo video vi sia piaciuto... Se è così mi raccomando lasciatevi un commento... Fatemi sapere se vi è piaciuto perché potrebbe a questo punto diventare... Una serie diciamo per gli speciali... Magari potrebbe uscire un altro... Un'altra compilation ai 200 iscritti... Sempre che i... I diretti interessati... Siano... Siano favorevoli a questo perché... Dubito che dopo questo video... I vari... Diciamo le varie vittime... Di questo video siano favorevoli a fare un altro video di questo tipo... Cercherò di inventarmi qualcosa... Non mi preoccupate... Detto questo signori... Grazie ancora... Per i 100 iscritti... Noi ci vediamo... A un prossimo video... E mi raccomando... Spediti verso i 200 ragazzi... Ciao a io... 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 Ciao a io...